Ma che... Dove mi trovo? Come ti chiami, caro? Mi chiamo Joe. Insegno musica alle medie. Connie, tocca a te! Era iniziato come il giorno più bello della mia vita. A stasera iniziamo le sette. Sì! Sa che ci scriverà, no? Joe Gardner! Ce l'ho fatta, ho l'ingaggio! C'era stata una doccia fredda. Cosa? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Qualcuno mi aiuti! Non ho finito! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Eh? È il paradiso. No. Ti trovi nell'anzitempo, dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla terra. Vi presento 22. Non voglio andare sulla terra! Smetti! Ribegerti! Non ci vado! Ok, senti, soffino troppe cose sulla terra e non voglio averci niente a che fare. Ma ti perdi le cose belle della vita, come la pizza. Non sento i profumi. Noi non... non sentiamo i sapori. Quella roba fa parte del corpo. Niente olfatto, né gusto. O tatto. Visto? Ok, ho capito. Wow! La mia vita. Vale la pena vivere tanto per poi andarsene. Sei ancora vivo. Mi aiuti a tornare indietro? Non esiste! Eccomi! Ti aspettiamo! Ma non parlo perché è proprio me! Strano. Che cosa? 151.000 anime finiscono nell'aldilà ogni giorno e io le conto una a una. Non tornano i conti. Ah! 2.000 anime!